Terramo in Italia si trova alla 29esima posizione per la sicurezza. Qual è la situazione reale in Terramo Città, ma soprattutto qual è il vostro compito, quello della Polizia Locale? I compiti della Polizia Locale spaziano purtroppo, per fortuna, in tutte le materie. Quindi abbiamo edilizia, giudiziaria, commercio, ufficio anagrafe, pubblici esercizi, esercizi commerciali e controllo, nonché anche tutte le attività legate al microspaccio e alla cosiddetta sicurezza urbana integrata. Ricordiamo per esempio le sostanze stupefacenti, il sequestro che c'è stato a Via Fonte della Noce, ricordiamo anche le attività a Via Longo o anche quelle di prevenzione per l'alcolismo nei minorenni, i casi di bullismo. Sì, una serie di attività che comunque siamo riusciti a portare con ottimi risultati all'inizio dell'anno. Non in ultimo questo sequestro, rinvenimento di circa 50 grammi di ascici e che siamo riusciti comunque a togliere dal territorio. Territorio che in alcuni casi comunque risulta particolarmente difficile perché comunque chi è dedito a questo tipo di attività si avvale comunque di vedette sempre più numerose per far sì che comunque che non vengano sorpresi con dei quantitati vitali che possono essere denunciate alla Procura della Repubblica. Per cui l'intento di queste persone che sono detti dallo spaccio è quello per l'appunto di farsi trovare delle piccole dosi per essere denunciate e segnalate esclusivamente alla Prefettura di Teramo. Il problema di questa città, in particolare del comando di polizia locale, diciamo è la situazione come più volte segnalato a tutti gli organi di stampa ma anche all'amministrazione della criticità della situazione dell'organico. La domanda secca è questa, quanti uomini mancano? Ma secondo la legge regionale ne mancherebbero a questo punto 60 unità. Io diciamo ad oggi stavo facendo i conti e ho operative al 100% solamente 10 unità.